La volta femmine, sette alla via dopo il forfè del penultimo aumento di Diana del Circeo, uno Dreamy di Iran, Giovanna Antonio Verde, due Dragudo in dietro, Giuseppe Tutino, tre Diletta Griff, Giorgio D'Alessandro Junior, cinque Dama C Regal, Giorgio D'Alessandro Senior, sei Diamante Griff, Crescenzo Maione, sette Divina degli Olivi, Umberto De Vincenzo, Otto Demi Murtreb, Claudio De Filippo, si ritrae Dama C Regal, macchina che lascia le concorrenti, partite. Diamante Griff, Divina degli Olivi, alle prese, avanti a Diletta Griff, quindi lungo i birilli da Grudim e Letro, allargo Demi Murtreb, duecento iniziali in quattordici per Divina degli Olivi al comando lungo l'arco della prima piegata, nei confronti di Diamante Griff che sposta dalla sua scia, si presenta a chiedere strada al paletto dei quattrocento passati in ventotto e mezzo. La coppia di testa è seguita da Diletta Griff e Demi Murtreb quando ai seicento Diamante confeziona l'operazione sorpasso e scende alla corda nuova leader il parziale davanti alle tribune in sedici per mezzo giro abbondante in 44,6. Si va sulla seconda piegata con Diamante Griff leader nei confronti di Divina degli Olivi e Demi Murtreb ha sbagliato Diletta Griff gli ottocento della testa in 1,1 appena abbondante. Si torna in fronte con Diamante Griff che ha alato ora Demi Murtreb in tasca, c'è Divina degli Olivi, prende la via del largo da gru di Meletro, al cui esterno c'è Dama C. Regal che punta in terza corsia, 1,6 e 9 il chilometro a parte della leader Diamante Griff. Per il momento si stoppa lì l'avanzata di Demi Murtreb insiste a largo di tutte, Dama C. Regal lungo i birilli Divina degli Olivi, accelera a metà della piegata finale Diamante Griff che si scrolla di dosso alle avversarie e mantiene un paio di lunghezze in margine nei confronti Dama C. Regal quando si è all'ingresso e la dritta arrivo, Diamante Griff ha sempre quel paio di lunghezze abbondanti nei confronti Divina degli Olivi e Dama C. Regal, Diamante Griff che parla semplicemente una lingua diversa rispetto a queste, conferma quello che si era visto in qualifica e compie un ottimo debutto al secondo Divina degli Olivi. Tiene botta Dama C. Regal, 2 e 3, il totale 1,16 e 9, la media al chilometro con ancora parecchio del buono in mano per Diamante Griff, Crescenzo Maione, per Ferruccio Capanna i colori del Dante SM, la figlia di Nadal Shiba e Amon Gil SM che in pratica da un capo all'altro giù di lì viene a vincere chiaramente il suo esordio, corre bene alle sue spalle Divina degli Olivi, così come Dama C. Regal che si è sobbarcata anche 600 metri in terza. 6, 7, 5, l'ordine arrivo della terza.